Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Warframe! Allora ragazzi, questo rapidissimo video per segnalarvi che dal 26 novembre è possibile giocare su Warframe anche da PlayStation 5. Quindi è stato fatto il lancio sulle console di nuova generazione del gioco e per celebrare questo passaggio di Warframe alla next gen, Digital Stream mi ha dato la possibilità di fare un giveaway per tutti i giocatori da PlayStation. A disposizione ho un pacchetto Divergence che contiene 100.000 crediti, 125 platini, l'armatura Obsidian Deco, lo Shotgun Corint con l'Obsidian Skin, la Pennant Nikana, anche questa con l'Obsidian Skin e poi dei booster di affinità e di crediti della durata di 7 giorni. Quindi un bellissimo pacchetto con cui festeggiare nel miglior modo possibile il passaggio di Warframe sulla next gen. Quindi ragazzi, se giocate su PlayStation, 4 o 5 che sia, e siete interessati ad ottenere questo pacchetto, lasciate un commento qua sotto scrivendo appunto il vostro nickname in game. Io come al solito farò un'estrazione, farò una tabella Excel con cui fare l'estrazione, e poi dovrò compilare un form che mi ha dato Digital Stream con i dati del vincitore. Sinceramente non vi so dire come vi sarà recapitato il pacchetto in game, o sarete contattati, sinceramente non lo so, però ci vorrà comunque un po' di tempo perché il termine ultimo per comunicare i dati da parte mia è il 9 dicembre, quindi sicuramente lo riceverete dopo questa data. Io vi lascio naturalmente qualche giorno di tempo per poter lasciare qua sotto un commento con il vostro nickname, e niente ragazzi, buona fortuna in bocca al lupo per questo giveaway e benvenuti nella next gen a questo punto su PlayStation 5. Per chi di voi è stato così fortunato da riuscire a recuperarne una, visto che sono andate completamente sold out. Profitto di questo video anche per segnalarvi che ci sono un paio di missioni, dono da Lotus con cui ottenere una forma e un catalizzatore Orokin, non so dirvi se sono solo su PC o su tutte le piattaforme, date comunque un'occhiata ragazzi, e per il resto vi segnalo che sono andato su Deimos da Lloyd a comprare tutti i componenti per costruire Bone Widow. Certo, continuo a mancarmi la capsula per poter craftare appunto la capsula di Bone Widow, però è sicuramente più semplice che non andare a trovare la taumica per ultimare l'ultimo componente che mi manca di Voidrig. Ho fatto davvero una marea di recupero minerali su Deimos, ma oh ragazzi, non riesco proprio a trovarla la taumica, non so più cosa fare. Quindi, niente ragazzi, detto questo, penso che a breve finalmente avrò il mio primo Necramec, così finalmente potrò testare la sua potenza in game. E niente, per questo video è tutto, in bocca al lupo per il giveaway se giocate da Playstation e volete partecipare. Vi ricordo ancora una volta di lasciare un commento qua sotto con il vostro nickname in game, e vi do appuntamento al prossimo video dove ci sarà l'estrazione. Alla prossima, ciao ciao! Grazie! Grazie! Grazie!